Benvenuti a Politeama, gentili spettatori. Tra i film, in programmazione alla multisala UG Cinema, vi segnaliamo Jersey Boys. Tratto da una storia vera, il film narra le vicende di un gruppo di amici che negli anni 60 fonda la band The Fourth Season. La pellicola ripercorre momenti salienti dell'ascesa del gruppo musicale, focalizzando l'attenzione sia sui periodi più neri sia su quelli caratterizzati da grandi trionfi. Dopo il successo di The Beard, Clint Eastwood torna alla regia con un altro film biografico che parla di musica. Sabato 21 giugno sono due gli appuntamenti che vi segnaliamo. Alle 21.30 ad Arezzo, in Piazza Grande, si svolgerà la giostra del Saracino. Oltre alla gara ricordiamo anche altri momenti clou della giornata. Il bando, durante la mattinata, che vede quartieri, rappresentativa comunale, musici e araldo sfilare per la città annunciando lo svolgersi della manifestazione e infine al tramonto il corteo storico per le vie centrali di Arezzo. San Giovanni Valdarno invece ospita la nona edizione della Notte Bianca. L'iniziativa, che nel corso degli anni ha riscosso sempre un ottimo successo, prevede tanti appuntamenti che animeranno le vie del centro storico, musica live, installazioni video, artisti e performance. Ci sarà spazio anche per i bambini, cui è dedicato uno spazio ad hoc e per l'arte, con l'apertura dei musei cittadini. Giovedì 26 giugno torna ad Arezzo l'appuntamento con i racconti di viaggio. Al bocciodromo comunale Giampiero Kanji presenta le foto realizzate durante un tour in Armenia e in Georgia. L'iniziativa è promossa dall'associazione L'Angolo dell'Avventura Arezzo, che raccoglie al suo interno alcuni capogruppo dell'Associazione Nazionale Avventure nel Mondo. Vi ringraziamo per l'attenzione. Appuntamento alla prossima settimana con Politeama. Grazie a tutti.